Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video sul mio canale Easy Trading Partiamo come di consueto dalla mappa mondiale dei mercati Come potete vedere abbiamo un verde abbastanza diffuso Quindi la settimana che sarà corta perché ovviamente ci sarà la festività del primo maggio E' iniziata abbastanza bene, quindi i mercati sono abbastanza ottimisti E' tutto sommato e stanotte la si è chiuso in maniera positiva Anche sulle notizie che la Banca Centrale del Giappone ha deciso di non porre limiti all'acquisto di obbligazioni E successivamente diciamo la seguita all'Europa Forte anche del fatto che piano piano molte nazioni stanno passando alla fase 2 Quindi di riapertura graduale delle attività E di ritentare, ritornare a una pseudonormalità E quindi vabbè tutta una serie di cose che comunque diciamo aiutano i mercati a essere ottimisti Un po' meno ottimista chi invece investe sul petrolio Per cui oggi, anche oggi il petrolio è molto sotto pressione In questo momento siamo, guardavo prima il WTI, siamo intorno almeno 28% Quindi una giornata veramente pesante e veramente lucrosa per gli shortisti su OIL In questo caso Come avevo detto oggi nel mio post di Etoro Ho detto che oggi faremo qualcosa di particolare Utilizzeremo il mio account di Etest di Etoro Allora, una nota contorno Io non voglio che qualcuno si iscriva a Etoro Perché è un tornaconto mio Cioè nel senso è una vostra scelta È un trader, è un broker È come può essere un altro Più o meno valido A me piace perché mi dà la possibilità La possibilità di fare delle cose E soprattutto di poter gestire Il mio portfolio E di poter condividere, diciamo, il mio investimento verso altri Che possono decidere di copiarmi Detto questo Non so se sia la piattaforma migliore Probabilmente no Ce ne sono altre di migliori Forse anche di più performanti Ma io faccio l'esempio su questo Perché mi è utile più che altro per l'account di Etest E per altre cose Però, chiusa la parentesi Andremo a vedere quindi qualche investimento Vediamo qualche opportunità Se c'è possibilità di concretizzarla E vedremo come metterla semmai in macchina E quindi, per così dire, per aprire le attività Le seguiremo nel corso delle prossime giorni Le prossime settimane Allora, partiamo subito innanzitutto A vedere cosa sta facendo il Nasdaq Come di consueto Il Nasdaq, come potete vedere Siamo tornati su questi massimi di periodo qua Vedete, intorno a 8.900 Siamo a 8.860 In questo momento il Nasdaq misura Un più 1% E staremo a vedere se userà di nuovo Questo livello qua come resistenza Quindi tornerà ancora indietro C'è da dire che da stasera Anzi, da domani Ma già da stasera Cominciano alcune trimestrali Molto, molto, molto pesanti Questa sarà una settimana Incredibilmente forte Ci sarà Apple Ci sarà Facebook Ci sarà AMD Ci sarà Amazon Ci sarà Google soprattutto E quindi Già da domani AMD e 3M Poi non mi ricordo chi altro Non ho il calendario sotto mano Ma sarà una settimana Che metterà a dura prova L'indice dei tecnologici O lo farà volare O lo vedremo veramente Crollare Staremo a vedere Detto questo Due parole Diciamo sul petrolio Velocemente Come potete vedere 12,36 In questo momento Segna un meno 28% Questo dovrebbe essere Il future di giugno Mi sembra Se non ricordo male E già Siamo messi abbastanza male Qui vabbè Su palladio Per il momento Lasciamo stare Non ho posizione aperta Sto aspettando Che rientri Su questi livelli Qua Intorno a 1,850 L'oro Come potete vedere Sta ritracciando Quindi Questo è decisamente interessante Perché potrebbe iniziare La settimana In maniera Assai Diversa Da come ci potrebbe aspettare L'oro È cresciuto molto E quindi Sono in tanti Ad aspettarsi Un ritracciamento Soprattutto Visto che Sul settimanale Ve lo faccio vedere Qui Soprattutto perché Sul settimanale Come mi avete fatto notare Qualche giorno fa Si era presentata Questa doji Che è una candela Di inversione Ma La candela successiva Scusate Della settimana scorsa Era stata una candela Normalissima Vedete Rialzista Anche se Non ha superato Vedete Questa doji È rimasta all'interno Diciamo Del valore Tra massimo E minimo Della doji E in questo momento Diciamo Abbiamo aperto La settimana In ribasso Però Staremo a vedere Sicuramente C'è da ritracciare Un pochino Per l'oro Almeno Sul breve termine Ma poi Sul lungo termine Secondo me Continueremo Ancora a salire Un po' Torniamo Sul giornaliero E Andiamo a vedere Qualche Attività Andiamo a vedere Soprattutto la prima Che mi era stata chiesta Che era Eni Allora Guardate Eni Eni Come ho detto già All'altra volta Siamo dentro Un triangolo Questo è un triangolo Di continuità Del trend Di solito È un pennant Quindi significa che Tra l'altro è un pennant Perfetto Perché c'è anche Divergenze C'è calo di volumi All'interno del triangolo E quindi Questo è un triangolo Che in genere Ci dice che Possiamo continuare A scendere Quindi io mi aspetterei Che da qua Posseremo andare Ancora più giù E potremo aspettare In questo caso Che il livello Di Eni Possa tornare Su questi livelli Qua Vedete Intorno a 6,6 Se così fosse Se così fosse Aspetterei Che rompesse Diciamo Più o meno Qua Intorno Agli 8 Quindi Questa potrebbe essere Un'occasione interessante Per Eni Perché il prezzo Del petrolio Sicuramente Non l'aiuta E vediamo un po' Provevamo a metterla Già Tra i nostri Possibili trading Allora Prendiamo Eni Eccolo qua Allora Facciamo investi Allora Vediamo un po' Eeeh Ah già E' vero Giustamente Non posso fare Lo short Su Eni Perché c'è Sul mercato italiano Abbiamo ovviamente Il divieto Lo short Per tre mesi Quindi Abbiamo fatto Vi ho subito Fatto vedere Una cosa in diretta Molto interessante Più che altro Vi ho fatto vedere Subito in diretta Un errore Eni E' sicuramente In una fase ribassista E in questo momento Quindi non consiglio Di acquistarla In una fase Di Diciamo Di investimento Di Sul Long E Per cui Aspettiamo Di capire Cosa succede Dal mio punto di vista Diciamo che qua Possiamo scendere Quindi non possiamo Aprire lo short Perché C'è il divieto Di vendita Lo scoperto Giustamente Me lo avevo dimenticato Perché siamo Sul mercato italiano E quindi aspettiamo Aspettiamo che possa Arrivare qua Eventualmente Da qui si potrebbe Cominciare a ripensare A una Una strategia long Già che ci siamo Andiamo a vedere Una delle strategie Che avevamo già Messo in In conto Qualche giorno fa Quella su Boeing Dove Aspettiamo che si vada Eccola qua Su cui vedete Io avevo aperto Questo Ecco Se funzioniamo Mettiamoci un pochino Più 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 grande Ecco qua Su qui vedete Io ho aperto Questa Diciamo Questa vendita Perché mi aspetto Che Boeing Possa Continuare a scendere Perché le Anche Le Diciamo Le notizie Che arrivano Per quanto riguarda Il settore Aeronautico Aeroespaziale Non sono Esattamente Confortanti Quindi Anche Ma riguardo Tutti gli aiuti Di stato Che ci potranno Essere Ma Tra l'altro Tra domani Dopodomani Sarà la trimestrale Di Boeing Eccola qua Vedete Sarà il 29 aprile Quindi Non mi aspetto Grandi risultati E per cui Sono Scommesso Diciamo Sul fatto Che possa scendere Ancora Da un punto di vista Tecnico Questo qui È un altro Triangolo Anzi Ve lo disegno Un po' meglio È un altro Triangolo Di continuazione Del trend Vedete In questo caso Veniamo ad un trend Ribassista Quindi per me Continuerà Il trend Ribassista Adesso staremo A vedere Dove arriverà Ho messo Il mio primo Take profit Intorno ai 95 Più o meno E staremo A vedere Se ci arriva Non lo apro Questo Ma Vabbè Sì Possiamo anche Aprirlo Tutto sommato Perché no Tanto Siamo sul Count Di test Allora Eccolo qua Boeing Facciamo così Guardate oggi Meno 0,21 Andiamo qua Andiamo in vendita Leva X1 Mi raccomando Non Quanto ci mettiamo 5.000 dollari Tanto sono soldi Di etoro Questi Occhio che Quando aprite in short Vedete che ci sono Due commissioni Qui da pagare Su etoro Allora Lo mettiamo in vendita Per il momento Mettiamo Un take profit A Lo mettiamo A 95 Ok Perfetto Ok Direi che abbiamo messo tutto Importo 5.000 Vendi Apriamo la posizione Ok Posizione aperta Poi dopo lo andremo a vedere Molto bene Un'altra Un'altra cosa Interessante Che avevamo visto Anzi Visto che siamo Nel settore Aerospaziale Rimaniamo nel settore Aerospaziale E andiamo a vedere Airbus Che ha lanciato Un'alert Veramente Veramente Interessante Oddio Interessante Non tanto Ma un'alert Veramente Bruttino Diciamo Per l'azienda Allora L'azienda ha detto Che si trova in difficoltà E visto che deve ridurre La produzione Dovrà ridurre Dovrà Anche tagliare Il personale Teme Veramente Di Il tracollo Finanziario E qui Essendo Airbus Una Diciamo Un consorzio Europeo C'è davvero Da aver paura Però Detto questo Guardiamo su Airbus Che tecnicamente Allora Viene da Una discesa Enorme Guardate cosa Ha fatto in questo mese Ed è andata A toccare Una Due Tre volte Questo livello Qua Intorno ai 50 Certo che Domani No Tra due o tre giorni Due giorni Sì Tra due giorni Ci saranno Anzi no Domani ci saranno Anche le trimestrali Ci sarà anche La trimestrale Airbus E Qua Non è che Le notizie Che arrivano E nemmeno L'outlook Possa essere Estremamente Positivo Se poi Andiamo Un attimino Sul mensile Per vedere Un po' meglio Cosa sta succedendo Eccoci qua Guardate Su che livello Siamo arrivati Siamo arrivati Su questo livello Qua A 50 E Possiamo Scendere ancora E arrivare Qui a 40 Quindi E' un po' Una scommessa Però Diciamo che Da un punto di vista Puramente Tecnico Qua C'è spazio Secondo me Per scendere ancora Occhio Allora Nessuno Deve fare Operazioni Finanziarie Basandosi Quello Che vi Dico Io Stiamo Qui Stiamo Facendo Soltanto Della Didattica E vi Sto Parlando Di Quelli Che Potrebbero Essere Quali Sono Le Questo Minimo E' chiaro Che qua Possiamo Aspettarci Un'ulteriore Discesa Torniamo Sempre qua In questo caso Vediamo Se Airbus Su E.Toro E' una Delle Aziende Che si Può Tra virgolette Vendere In questo momento Il mercato E' chiuso Perché Siamo Oltre L'orario Del Mercato Francese Vedete Che non Si può Vendere Perché Anche Qui Sul Mercato Francese C'è Il Divieto Di vendita L'ho Scoperto Quindi Basta La lasciamo Lì E vediamo Dove Potrà Arrivare La seguiremo Con una Certa Apprezzione Anche Andiamo A vedere Invece Un paio Di coppie Di Valute USD CHF Eccola Qua Questa L'ho Vista Oggi E Anche Lei Viene All'interno Di Questo È Un Triangolo Un Altro Pennant È Un Triangolo Di Continuità Del Trend Un Trend Che Come Potete Vedere È Bastanza Laterale Diciamo Io Se vogliamo Vederlo Da un Punto Di Oscillazione Ma Da questo Punto Di Vista Qua Viene Da Un Trend Ribassista Quindi Anche Se Qui Ha Toccato Un Minimo Molto Forte Poi Tornando Su Poi Giù Poi Poi Giù Possiamo Ipotizzare Che Se Rompe Più O Meno Il Triangolo A Questi Livelli Qua Possa Esserci Una Nuova Discesa E Tentare Di Arrivare A Questi Livelli Qui Vedete Intorno A 093 E Questo È Un Ordine Che Volendo Possiamo Anche Mettere In Macchina Diciamo Così In Maniera Assolutamente Statistica Livello Questa Riga Qua Vedete Discendente Adesso Qui Sta Cercando Di Recuperare Un Pochino Potrebbe Scendere Ancora Potrebbe Andare A Toccare Qua E Poi Rompera Verso Il Basso Nel Caso Rompa Verso Il Basso Possiamo Piazzare Un Ordine A Diciamo A 96 8 Andiamo A Vedere Come Toro Qui Siamo A 97 57 Tutto Sommato Neanche Tanto Allora Posizioniamo Il nostro Ordine Di Vendita X100 Mi Sembra Davvero Sempre X1 Per Se Possiamo Per Evitare Anche Le 6 E 70 Così Mettiamo Quanto Possiamo Mettere 5000 Mettiamo 5000 Anche Qua Mettiamo 5000 Anche Qua E Mettiamo Il Take Profit Eccolo Qua Lo mettiamo Più o Meno Diciamo A Questi Livelli Qua Qua Su 94 E 35 Quindi Lo Mettiamo A 94 E 50 Lo Facciamo Un po' Più Conservativo Non è Tanto Vedete A X1 Vedete È Molto Basso Il Rendimento Solo 2 35 Ma Sulle Valute In Genere Possiamo Ammentarlo Un pochino Lo Potiamo 94 40 Però Sulle Valute Soprattutto All'Eva X1 È Molto Molto I Guadagni Sono Molto Molto Limitati Però Lo Impostiamo Vediamo Se Ce Lo Prende Ok Perfetto E Questo Potrebbe Essere Un'altra Cosa Da Tenere Diciamo Sotto Monitoraggio Poi Sempre Di coppie Basate Sullo Allaro C'era Quello Sulla Lira Turca Che Uno Dei Amici Sul Canale Telegram Mi Aveva Fatto Notare Che Era Molto Interessante Ed Che la Lira Turca Nel Confronte Del Dollar Siamo In Questo Canale Ascendente Quindi Il Dollar È Molto Molto Forte In Questo Mentre Confronte La Turca Ma Ha Toccato La Banda Qui Se vuole Faccio Vedere Un Po Meglio Toccato Toccato La Banda Di Bollinger Qua E Ha Cominciato A Lateralizzare Su Questa Resistenza Storica Che Vi Faccio Vedere Qui Indietro Ha Già Toccato Nel Tempo Qui E Quindi Anche Qua Potrebbe Esserci Un' Interessante Occasione Di Short Sempre Proviamo D T R Ok Non l'ha Preso Non gli piace Ok Eccolo qua Oggi è in crescita Del 0,70 Allora Facciamo così Facciamo questo In reti Allora Addirittura Fa un rimborso Quindi lo portiamo A leva X1 Otteniamolo Sempre Leva X1 Anche se Ci rimborsa E Apriamo Una vendita Con un Take Profit Vediamo Un po' Questo Potrebbe Essere Un Take Profit Vedete Qui Ci ha Insistito Diverse Votri Su Questo Livello Qua Quindi Lo portiamo A 0 A 6 60 Vediamo E' Molto Ambizioso Come Take Profit Però Lo portiamo Qui 6 60 5 87 Ok Apriamo La posizione Molto Bene Anche questa è andata in macchina Bene Per il momento diciamo che è tutto Vi ho fatto vedere due cose molto molto veloci Qua Guardiamo un attimo Bitcoin Che vedete Che sta Alzandosi un pochino E' sempre all'interno Delle bande Qui Quindi sta seguendo piano piano Il mercato Per il momento diciamo è tutto Non ho molto altro da direvi Poi nel corso delle prossime giornate Vedremo un po' meglio alcune operazioni Qui nel frattempo il Nasdaq sta scendendo un pochino Ma siamo sempre più 0,90% Detto questo Se ci sono domande o dubbi Chiedete sempre Chiedete pure Se posso rispondere Vi lo faccio ben volentieri E mi raccomando Non Buttatevi dei soldi a caso Per carità Questi non sono consigli di investimento Stiamo facendo della didattica Vi sto facendo vedere Come poter sfruttare alcune idee E quindi Ragionate sempre con la vostra testa Mi raccomando Per il momento è tutto Come sempre Iscrivetevi al canale Se vi piacciono i miei video Mettete un click Sulla campanellina Per rimanere aggiornati Mettete like Commenti E stay tuned And finger cross Ciao a tutti